Eseguiti i lavori di completamento degli spazi al chiuso all'interno del Parco Comunale a Motta Sant'Anastasia. Di conseguenza sono stati trasferiti in questa sede da lunedì 5 giugno 2023 gli uffici comunali dell'area 3 settore urbanistico. Così facendo l'amministrazione comunale potrà accedere ai locali di via Napoli 70, vecchia sede degli uffici sopra citati, alla disponibilità dei carabinieri per la realizzazione della nuova caserma. Tanto attesa. Abbiamo la ferma a volontà di cedere ai locali per la caserma in tempi brevi. Pertanto anticipiamo l'inizio delle attività di manutenzione e ristrutturazione della struttura per il rapido e tempestivo trasferimento della caserma dei carabinieri. Si legge in una nota del sindaco Mottese Anastasio Carrà. La scelta è stata certamente necessaria per garantire una maggiore tutele e sicurezza dei cittadini tramite l'incremento del personale militare e alla materiale disponibilità di spazi e uffici idonei all'obiettivo di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza in generale. Ogni impegno preso da parte nostra, chiude il sindaco, diventa dovere di risultato.